E ragazzi, benvenuti in questo video speciale per i 150.000 iscritti Come già avevamo un pochino spoilerato nei nostri social, abbiamo preparato due sorpresine per questo traguardo e adesso ve le mostreremo Esattamente, i 150.000 iscritti di per sé sono un bel traguardo, ma non sono nulla I che, cioè, paragonati ai 100.000 iscritti, secondo me, sono un obiettivo decisamente meno importante Però, nel momento in cui si fanno in due mesi esatti, dato che noi l'11 maggio siamo arrivati ai 100.000 iscritti E l'11 luglio siamo arrivati ai 150.000 iscritti, diventa tutto più speciale Quindi, grazie mille per questo traguardo Direi di partire subito, amassarvi le due sorprese, vi mostriamo prima quella che per noi è più importante Dopodiché l'altra, che comunque è molto carina Ed ecco la prima sorpresa, le magliette, siamo strafelici di presentarveli Tantissimi ce ne avete chiesto e finalmente ci siamo decisi a farle Esattamente, abbiamo deciso di farlo in questo momento perché Prima di tutto abbiamo trovato un ragazzo davvero, davvero bravo a disegnare Secondo me è un fenomeno, è stato velocissimo, super umile Lo ringraziamo davvero tanto perché ha fatto un lavoro fantastico È davvero bella, io come ho visto, proprio il design della nostra maglietta ho detto Oh mio dio, è bellissimo, infatti me la comprerò anche per me stessa Perché mi piace davvero tanto Lo sappiamo fare, ti conosciamo La seconda cosa è che abbiamo trovato un sito davvero carino e davvero affidabile dove farlo La stanno utilizzando tantissimi altri youtuber italiani Esatto, esatto Ovviamente saranno disponibili, quindi è soltanto diciamo un numero per iniziare Dopodiché i sette giorni è il vostro limite Non sappiamo se le rivenderemo in futuro Perché a me piace molto questa idea diciamo di tenerle speciali Limitate e speciali per i 150 mila Per l'unisex che è la maglietta classica e poi ho anche uno più specifico da ragazza Che secondo me per le ragazze è molto carina Giusto perché la voleva fare Esatto, giusto perché la volevo io Ovviamente entrambe hanno una scelta di colori Abbiamo scelto i colori che piacciono di più a noi Perché ce n'erano tanti tanti disponibili Però abbiamo messo i nostri preferiti E quelli che secondo noi stavano meglio col disegno della nostra maglietta Esattamente Quindi almeno avete anche una vasta scelta Ovviamente anche le taglie vanno dalla S alla XXL mi pare Sì Quindi davvero potete prendere assolutamente la taglia che preferite Il pagamento ovviamente sicuro Si può fare tramite Visa, Mastercard, Paypal e tutto quello che c'è disponibile nel sito Quindi comunque è una cosa sicura dato che la stanno utilizzando tutti E sotto quel punto di vista si può stare tranquilli Quindi come si compra comunque Dovete selezionare il tipo di maglietta che volete Selezionate il colore che preferite Dopodiché andate su acquista e vi comprate la vostra maglietta Ovviamente c'è anche la piccola spiegazione qui all'interno del link Esatto, così non avete dubbi Quindi non vi dimenticate e non avete dubbi E un'altra cosa molto importante è questa Nei sette giorni tutte le persone che verranno a maglietta la potranno comprare Dopodiché dopo quei sette giorni verranno preparate e spedite a tutti voi E arriveranno in 3-5 giorni lavorativi se ricordo bene Sì è molto veloce la spedizione Una roba del genere non è troppo lungo Oltre al costo della maglietta ci sono anche le spese di spedizione Che sono 3,95€ se ricordo bene Mentre scende a 1,50€ circa Se ne prendono più di una Quindi se ne prendete due, tre, quattro Le spese di spedizione calano drasticamente In ogni caso se decidete di comprare la maglietta Taggateci su Instagram Decideremo fare un hashtag veloce La maglietta dei consolini ti piace? Maglietta dei consolini Ok perfetto Quindi se comprate la maglietta fatevi la foto Taggateci con l'hashtag La maglietta dei consolini E noi vi faremo una sorpresina Abbiamo in mente una cosa carina Da mandarvi nel caso in cui ci taggerete Quindi mi raccomando fatelo E direi di mostrare la seconda sorpresa La seconda sorpresina Allora la facciamo vedere subito 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 Speriamo che vi piacera anche questa Perché è una cosa che c'è da tanto tempo nel canale E che secondo me era arrivato il momento di cambiare Stiamo dando tanti indizi Secondo me è giusto farla vedere subito L'abbiamo fatta vedere anche su Instagram una fotina E qualche piccolo spoiler certo certo Quindi secondo me alcuni l'avevano già capito Ed eccolo qua Abbiamo cambiato anche il nostro banner copertina del canale Ovviamente come potete notare Sicuramente qualcuno se ne ha accorto E' stato fatto sempre dallo stesso illustratore delle magliette Perché giustamente ci ha fatto questo lavoro spettacolare E abbiamo pensato dai facciamoli fare un disegno anche per le magliette E noi siamo strafelici L'idea è nostra però abbiamo sentito noi Sì l'abbiamo ideata totalmente noi L'unica cosa è che al posto dell'arcobaleno Volevamo mettere 2 player su un console sempre curvo Però non ci stava benissimo E abbiamo deciso di fare questa modifichina con un arcobaleno Che secondo me ci sta bene Ovviamente io scappo dai Goblin ai Ferelli che combatte Ma ovviamente io ti devo dipendere Ma che manca tutti i colpi con le frecce Non è vero Perché queste guarda gli stanno arrivando addosso La mira non è so forte In ogni caso vi ringraziamo ancora per questi 150.000 iscritti Arrivati così in fretta Non ce li aspettavamo Perché ci aspettavamo magari di arrivarci intorno ad agosto o settembre E' davvero bello Ci fa super piacere E non vediamo l'ora di arrivare ai 200.000 iscritti In ogni caso grazie mille ancora E ci vediamo domani